Ciao, sono Luca Piromalli, è il padre da Mario, la sera di settembre se fanno una gara a Cassino del G.P.E.V.A. e tra Madusa sa divertimo, ci saremo noi, voi saremo presenti, io e l'altra mia bambina, quella cattiva, cattivissima, questa, questa bimba cattiva, mi raccomando, non dovete mancare, chi viene vale, ciao!